Epatim in questi anni ha assunto anche il ruolo di essere un laboratorio di scambio di idee tra specialisti del trapianto e molto di questo lavoro verte sull'aspetto organizzativo del follow up post trapianto di fegato. Il post trapianto di fegato che dura tutta la vita per i pazienti è storicamente stato sempre a carico dei centri chirurgici di trapianto. Questo modello è stato superato nel tempo di necessità sia perché i centri trapianto sono diventati con troppi pazienti da seguire sia per la lontananza fisica dei pazienti dai loro centri trapianti. L'Italia è lunga e soprattutto al centro-sud si assiste al fenomeno della mobilità verso le regioni centro-settentrionali. Quindi la necessità di organizzare centri periferici con le expertise necessarie a seguire i pazienti di pazienti trapiantati è sorta soprattutto in regioni come la Campania dove il numero di trapiantati è veramente elevato tanto da costituire un vero problema per il servizio sanitario regionale. In Campania il sistema si è organizzato secondo un modello hub spoke dove l'hub è costituito dal centro regionale chirurgico di trapianto di fegato di Napoli e gli spoke periferici sono le principali aziende ospedaliere della regione.